Io credo sia un errore, un segno di debolezza da parte di Renzi e onestamente qualcosa di incomprensibile. Egoismi, segni di debolezza, azioni incomprensibili. Il consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia Francesco Russo commenta così lo strappo di Matteo Renzi con il Partito Democratico. Un gesto che allontana i cittadini dalla credibilità politica in un momento cruciale, dice Russo, quello in cui a poco dalla formazione del governo Conte Bis, il PD avrebbe avuto bisogno di unità, di parlare di una coralità necessaria per il buon governo a fronte degli individualismi. È una scelta questa che dimostra ancora una volta, o rischia di dimostrare, che la politica è davvero lontana dagli interessi della gente normale. Nel momento in cui parte un governo credo che gli elettori, anche non del centro-sinistra, anche non dei 5 Stelle, in questo momento stanno a vedere se questo governo è in grado di cambiare le cose, di cambiare passo e di rispondere alle esigenze dei cittadini. Questa scelta dimostra ancora una volta che sono gli interessi personali, i piccoli giochini, gli egoismi politici dei singoli, magari la ricerca di una ricandidatura, insomma, sono cose che allontanano e danno l'idea che soltanto i più furbi, quelli che magari cambiano l'idea, hanno sempre ragione. Secondo Francesco Russo non dovrebbero manifestarsi conseguenze all'interno degli equilibri politici del partito a livello locale, nonostante non sia un segreto che lo stesso PD sia composto da correnti diverse, chi filo Zingaretti, chi invece più legato alla figura di Renzi. Ciò che Russo infine commenta è il comportamento di uno degli esponenti triestini più in vista all'interno del partito, ovvero Ettore Rosato. Certamente mi dispiace che una persona che nasce da questo territorio come Ettore Rosato sia oggi il campione di questo trasformismo, insomma, d'altra parte lui negli ultimi anni ha cambiato idea parecchie volte, ma vedere che magari per un piccolo tornaconto personale, un'eventuale ricandidatura, quegli egoismi che si leggono anche in Renzi, quella voglia di essere protagonisti, quando invece bisogna riconoscere a Zingaretti che aveva costruito una dimensione del noi nel Partito Democratico. Ecco, sembra qualcuno non voglia rassegnarsi a non essere sempre il protagonista.